Oggi ti insegno a gestire un video registrato con iPhone in HDR. Io registro maggior parte dei miei video con iPhone 14 Pro in 4K in HDR, c'è soltanto un problema. Quando li importo sul Mac per il montaggio, come vedi, il video risulta completamente bruciato, è veramente inutilizzabile. Però c'è un modo per risolvere questo problema. Infatti ti basta andare nel pannello degli effetti di Final Cut, cercare HDR e trasportare questo effetto direttamente sulla clip video ed il gioco è fatto. Ritocca ulteriormente il video modificando questi valori che vedi a schermo e Final Cut andrà ad elaborare la clip video e la renderà perfettamente utilizzabile con i colori corretti.